Poste Italiane attraverso una lettera del responsabile Corporate Affair Giuseppe Lasco ha confermato la disponibilità dell'azienda ad attivare nuovi servizi nei comuni montani. Il presidente di Unce in Bussone ha commentato la lettera accogliendo positivamente la proposta del direttore Lasco e apprezzando le parole della D di Poste Italiane Matteo Delfante che oggi ha ribadito agli analisti di non voler chiudere per i prossimi tre anni gli uffici nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Il presidente di Unce mi ha aggiunto vorremmo che Poste Italiane sia una presenza dello Stato sui territori ancora più forte. Abbiamo proposto in tempi non sospetti, in diverse occasioni, nuovi modelli di distribuzione con 100 post-amat in più per regione, l'attivazione di sportelli multiservizi e multifunzionali, servizi di tesoreria comunali con una PA da accompagnare nella transizione al digitale, promozione del postino telematico, vettore di capacità e formazione. Bussone ha poi fatto presente i problemi nella frizione del servizio di poste italiane che attualmente affliggono i piccoli comuni, dove tre giorni o due di apertura alla settimana degli uffici per tre ore al giorno non garantiscono un servizio efficace per i cittadini. È chiaro dunque il monito di Bussone, secondo cui Poste Italiane deve tornare a investire anche nei comuni più piccoli e nelle zone montane del paese, costruendo una nuova strategia che sia forte duratura. Anche le organizzazioni sindacali e locali plaudono ad alcuni interventi previsti dal piano d'impresa 2018-2020 di Poste Italiane. Righi, di CISL Poste, afferma, è positivo che si voglia rivedere in maniera seria i costi per quanto riguarda gli altidirigenti e la riduzione da 9 a 6 macro aree va in questa direzione. Sul recapito postale, però, ci sono cambiamenti in vista, aggiunge Righi. Il VCO, assieme ad alcune zone della Sicilia, è tra i pochi luoghi in Italia dove la posta viene recapitata ogni giorno. Da ottobre ciò non dovrebbe più avvenire e ci dovremmo allineare con quello che succede nel resto d'Italia, con la consegna che avviene a giorni alterni.